Domenica 30 luglio, secondo appuntamento con la rassegna Libri sotto le stelle, un ospite importante, Fabiano Massimi, che racconterà una storia importante. Di che cosa si tratta? È una storia vera, accaduta nel 1938, quando la Cecoslovacchia temeva di essere invasa dai tedeschi e così avvenne nell'arco di poche settimane. Quest'uomo inglese di origini ebree capì che c'era bisogno d'aiuto, di fare un miracolo, di salvare centinaia e centinaia di bambini orfani che sarebbero andati sicuramente in campi di concentramento. Si trasferì a Praga e assieme ad altri due amici riuscì a realizzare un miracolo straordinario, organizzare dei treni verso la Gran Bretagna portando centinaia di bambini lì e facendoli adottare da famiglie inglesi. Molti anni dopo anche la BBC si occupò di questo caso. Quest'uomo straordinario tenne questa storia nascosta per 50 anni, era uno molto modesto e la tenne nascosta fino a quando la moglie scoprì una rubrica, un libro dove c'erano le foto e i nomi di questi ragazzi, capì che cosa aveva fatto il marito quando era giovane e tramite una giornalista della BBC fece una trasmissione televisiva che è da pelle d'oca, se la vedete su internet cliccando Winton. Nicolas Winton è proprio l'autore di cui stiamo parlando, l'uomo straordinario e BBC la troverete, è una vicenda veramente straordinaria. L'appuntamento come sempre è alla Lega Navale. Lega Navale ore 21, ringrazio il Presidente e la Lega Navale che ci ospitano come l'anno scorso in questa sede spettacolare, poi molto anche bella e suggestiva. Così come devo ringraziare anche la Cantina Cellaro di Sambuca di Sicilia che quest'anno ci offre la degustazione di vini alla fine della presentazione. Non dobbiamo dimenticare inoltre che con l'autore, con Fabiano Massimi, dialogherà una collega del DRMK che è Leonora Salomone, quindi dialogherà con l'autore. Da dove nasce l'esigenza di organizzare una rassegna di questo tipo che sta dando buon successo dal punto di vista del pubblico? Non è un'esigenza, la nostra è un modo di motivarci e motivare le persone mostrando la differenza che c'è tra l'essere soltanto venditori di libri. Noi non pensiamo di essere soltanto venditori di libri, ma di organizzare anche eventi importanti come questo della rassegna o come tutti gli incontri che durante l'inverno mia moglie organizza con le scuole, facendo incontrare autori, iniziando alla lettura centinaia e centinaia di bambini. Pensiamo che siamo un po' di più di semplici venditori di libri. Una rassegna che proseguirà per tutta l'estate? Proseguirà. L'ultimo evento è il 10 settembre, ma vi raccomando di non perdere un altro evento importante, quello del 6 agosto. Poi ne parleremo. Parleremo di Leonardo da Vinci, parleremo delle origini della madre di Leonardo da Vinci e lo faremo con uno dei più grandi studiosi della vita di Leonardo da Vinci, che è il professor Carlo Vecce.